bentornati oggi vediamo la prima maglia del belgio la maglia di uno dei miei calciatori preferiti di De Bruyne in versione player la maglia esattamente uguale a quella indossata dai calciatori la maglia di casa adidas belgio copa del mondo 2022 ha un busto rosso con maniche reglan nere ciò che salta subito all'occhio è la grafica della fiamma che sale dall'estremità delle maniche la grafica ha un effetto leggermente digitalizzato le strisci adidas sulle spalle sono rosse il nuovo logo adidas è di colore nero mentre lo stemma ha le finiture in oro lucido i pantaloncini e i calzini della divisa casalinga sono neri sono caratterizzati da una stampa a fiamma simile a quella vista sulle maniche della maglia la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta wow secondo me questa maglia è stupenda con queste fiamme una maglia che dovete assolutamente avere e nella mia classifica questa prende 5 stelle tutti i particolari sono accuratissimi e le rifiniture sono perfette il costo lo vedete qui sopra che è bassissimo per una maglia fatta così bene che arriva con una spedizione così veloce questa arrivata in 24 giorni vi ricordo che qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ora prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia a large della versione player